Protagonista della prima star interview è il portiere Pierluigi Gollini che ha selezionato alcune tra le numerose domande che gli avete rivolto attraverso i social ufficiali Atalanta. Partiamo subito con la prima domanda. Quali differenze nelle metodologie di allenamento hai riscontrato tra Italia e Inghilterra? Non mollare mai perché sei forte e lo dimostrerai. Tra Italia e Inghilterra ce ne sono parecchie differenze sia dal punto di vista dell'allenamento per quanto riguarda la squadra che dal punto di vista dei portieri perché il lavoro sui portieri è molto più specifico in Italia a livello tecnico, si lavora molto più sulla tecnica e sui dettagli del ruolo mentre in Inghilterra si tende a lavorare un po' di più su quello che è il ruolo in generale viene un po' curata meno la tecnica del portiere e certi aspetti un po' più proprio nel dettaglio mentre anche per quanto riguarda la squadra c'è molta meno tattica, c'è molta più individualità, molti più uno contro uno e più fisicità. Restiamo in Inghilterra, ti chiedono quali sono i ricordi più belli della tua esperienza a Manchester? Ricordi belli? No tanti sinceramente. Ecco a differenza per dire da prima squadra e settore giovanile, in Inghilterra e settore giovanile ci se ne ha molto di più. A Manchester io ho fatto un'esperienza molto dura, è stata molto formativa anche dal punto di vista umano oltre che a quello calcistico e se devo dire forse ricordo più bello è quando abbiamo giocato nella FA Cup giovanile che sarebbe un po' come dire la Coppa Italia primavera e abbiamo giocato all'Old Trafford e è stata sicuramente una grande emozione poi comunque quando giochi nel Manchester nel giovanile in primavera fai già tante tournée in giro per il mondo quindi vai in vari posti e fai tante partite contro tantissima gente in tutte le parti del mondo e questa è sicuramente una cosa bellissima. E qual è il sacrificio più grande che hai fatto per il calcio? Sacrificio uno non riuscirei a dirtelo in particolare, sicuramente ce ne sono tanti posso dire che ho sacrificato la mia vita per il calcio, soprattutto quando ero ragazzino che i miei amici iniziavano ad uscire, io sabato sera stavo in casa ma per me sinceramente non era un sacrificio perché sapevo bene quello che volevo fare poi ho fatto altri sacrifici come ad esempio lasciare la mia famiglia molto presto sono andato via di casa a 15 anni, a 16 anni ho cambiato a paese quindi ho sacrificato un po' tutta la mia vita per il calcio ma l'ho fatto con estremo piacere e perché era l'unica cosa che volevo fare e i sogni che volevo eseguire. Ti piace il ruolo di portiere o preferivi qualche altro ruolo? Il ruolo sì, mi piace molto, la verità è che io non ho iniziato a giocare in porta io ho sempre voluto giocare in porta ma non mi hanno mai fatto giocare in porta perché anche quando ero ragazzino mi dicevano che fossi bravo fuori quindi dicevo no, non andare in porta, stai lì però no, il mio ruolo mi piace molto anche se penso che sinceramente sia il più difficile di tutti perché ci sono tantissime componenti però sì, mi piace molto il mio ruolo e spero che ci siano anche tanti ragazzini che crescendo vogliono fare il portiere. Ti chiedono che cosa fai per concentrarti prima della partita? Che musica ascolti in cuffia? Io ovviamente ascolto sempre il rapper con i guanti Lo ringrazio, mi fa molto piacere Per quanto riguarda la prima delle partite io sono molto nel mio mondo perché ho bisogno di trovare la totale concentrazione parlo molto poco perché appunto è un po' il mio carattere così a differenza magari di quando c'è da scherzare che sono uno dei primi normalmente però prima delle partite sono molto silenzioso mi piace stare molto concentrato e pensare alla partita durante il viaggio da diciamo prima di arrivare al campo in pullman ascolto sempre la musica e poi quando arrivo al campo di solito la stacco inizio già comunque a entrare un po' nel proprio nel mood più partita Qual è stato il momento più bello della tua carriera da calciatore? Dammi qualche consiglio da dare a un giovane aspirante portiere sei forte! Il mio momento più emozionante da calciatore è sicuramente l'esordio in Serie A perché è un sogno che si realizza per tutti i ragazzini che sono in di fare questo sport e un altro momento molto bello qua a Bergamo indimenticabile forse il più bello è stata la festa Europa alla fine del primo anno in cui si è raggiunta l'Europa dopo la partita con il Chievo quella festa sarà sicuramente un ricordo che mi porterò per sempre Restiamo in tema nero azzurro ti chiedono cosa hai provato la prima volta che hai indossato la maglia della Dea? La prima volta che ho indossato la maglia Tante ero molto emozionato però allo stesso tempo ero molto concentrato ero emozionato ma non troppo dentro di me ero anche molto felice ma soprattutto la cosa che predominava era la voglia di far bene e di giocare al meglio ho esalito contro il Pescara e abbiamo vinto 3-0 quindi sicuramente è stata una partita positiva e anche quello è un bellissimo ricordo che mi porterò per sempre Chiudiamo con le ultime due domande Prima, chi è il compagno più ignorante? Seconda, qual è il tuo coro preferito? Il più ignorante ovviamente in senso buono è Atebo che li voglio molto bene però lui non ha rivali e il coro che preferisco di più è quello che fa forza Atalanta a non mollare segna presentare questo stadio forza è la tua città e poi parte quando parte poi è bellissimo, quello è il mio preferito Ragazzi, vi volevo ringraziare a tutti di cuore farvi un saluto ho risposto solo un po' di domande ovviamente era impossibile rispondere a tutti però vi ringrazio della partecipazione di avermi fatto così tante domande e quindi ci vediamo alla prossima un saluto a tutti e sempre a Forza Atalanta Ciao